Un ladro con la passione per l'arte, nello specifico serrature medievali da chiese e palazzi. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Sansepolcro che hanno denunciato un 48enne del posto per i reati di furto aggravato continuato e danneggiamento. L'uomo, infatti, è ritenuto responsabile della sottrazione di 20 serrature di diverse epoche storiche risalenti al periodo del Tardo Medioevo al XVI e XVII secolo che sono state portate via da palazzi antichi e chiese della provincia di Arezzo danneggiando anche i portoni sulle quali erano installate. I furti sono stati commessi tutti dal febbraio 2020 all'aprile 2021. I carabinieri hanno ricostruito l'attività criminale dell'uomo grazie ad un'accurata attività investigativa avviata a seguito di alcune denunce. Dopo averlo monitorato per giorni, i militari l'hanno fermato mentre percorreva una via del centro storico a bordo della sua bici con uno zaino in spalla contenente tutto il necessario per commettere un'effrazione dalle tronchesi ai cacciaviti, dal seghetto ai coltelli. A questo punto i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono saltate fuori tutte le serrature nascoste in una cavità un doppio fondo accessibile tramite una botola coperta da un tappeto ricavata all'interno di una cantina nelle disponibilità del 48enne. L'uomo già in passato era finito in manette, sempre perché sorpreso a rubare opere religiose e reliquie. Le serrature adesso sono state recuperate e sequestrate, saranno restituite agli aventi diritto nei prossimi giorni. La refurtiva, da quanto appreso, era destinata in parte al mercato dell'antiquariato clandestino e in parte alla vendita online.